Allora Orlandi, innanzitutto complimenti ai fatto, stai facendo un precampionato straordinario, lo hanno visto tutti, sei una lieta scoperta di questa squadra e fai ben sperare per il futuro, la società crede molto in te e in effetti ti ha scelto e devo dire che stai rispondendo bene. Grazie, grazie mille, io sono contentissima di essere qua e di far parte di questa squadra in cui credo molto, più il tempo passa e più posso confermarlo. Io provo a portare in campo quello per cui sono stata presa e di dare il mio contributo giorno per giorno. Adesso iniziano le partite che contano, quindi le vittorie contano molto di più, tu non c'eri l'anno scorso, però sicuramente già un primo ostacolo si presenta perché Cremona l'abbiamo vista, insomma è una squadra bella tosta, anche fisica. Sì, come ho detto, finora i risultati sono contati fino a una certa, abbiamo cercato di trovare la nostra continuità e l'identità e dalla prima amichevole si sono visti dei grandissimi passi, quindi di questo sono contenta e sono fiduciosa. È chiaro che sarà un campionato, come dico sempre, tosso, inevitabilmente. Cremona ci abbiamo giocato contro, conosciamo chi ci gioca e sappiamo che è una squadra grande, grossa. Noi le studieremo e partiremo con grande entusiasmo, cercando di fare quello su cui abbiamo lavorato e concentrandoci più su noi stesse che su di loro. Senti, dall'anno scorso a quest'anno hai fatto un bel salto, come ti trovi e soprattutto se vogliamo tracciare un breve bilancio di questa tua esperienza qui a Busto? Sì, io sono contentissima di essere tornata a lavorare con giocatrici così di esperienza e che pretendono, ecco, da loro stesse e anche dalle altre. Il lavoro in allenamento è intenso, però è un ambiente che ti permette di lavorare bene, lo stiamo facendo e quindi sono veramente contenta.